questa è la famosa abbazia delle chiuse da da san vittorio e lui comunque la chiesa esiste da già dall'anno mille più o meno 1080 1090 e ha un mistero c'è un simbolo strano fatto inciso su una delle colonne col simbolo dell'infinito siamo cambiati ci andiamo a vedere il torrente il fiume sentino il fiume sentito le sa tutte è qua ho fatta bene piano grazie a tutti Grazie a tutti!